L'Olandese Coistra L'attacco di Chacha Gadnik Coistra in difesa Pagotto Cocola che può soltanto palleggiare Dall'altra parte Gelasio Ancora Boretti L'attacco Ancora Coistra Vol Aulucci Coistra Diagonale stretto dell'Olandese Gelasio Si prende il muro di Coistra Gadnik Quattro punti da recuperare Leis di Gios Coistra Coistra Prima Coistra Coistra E c'è Leis Di Salgado Coistra Spiaccia Coistra E c'è il punto incredibile Ci ha fatto di manire con il piano sospeso Coistra Una bomba Perez con calma Aulucci Coistra Passa Coistra Coistra Incredibile sedicensimo punto Per il Tulip Match Point La pizza Muro di Moretti Muro di Moretti E la Morini È in serie A2 Muro di Moretti 3-2 La Morini è salva Non l'abbiamo detto prima Crema Ha vinto contro Modugno 3-1 E la Morini è salva E la squadra ha dimostrato Davvero Di avere grande cuore Sì Abbiamo dimostrato